Eccoci qua, bello a tutti dal vostro Gabbo Man, siamo tornati su FIFA 16, oggi nuovo episodio della compravendita. Apro una piccola parentesi perché finalmente avete capito come se comprano i giocatori e quando se devono rivende, ma avete ringraziato in tantissimi, soprattutto col metodo Aduriz perché alla fine è quello che funziona di più. Purtroppo però stamattina ragazzi me ne volevo accattà qualcun altro, ho visto che non si trovano più, perché? Perché sto metodo l'avete capito talmente tanto bene che me fregate pure i giocatori, quindi adesso visto che ce ne stanno veramente pochi ne dobbiamo trovare qualcun altro. Io mi sono dato subito da fare ragazzi e so partito da Borca Valero, questo è un ottimo giocatore ragazzi, se compra facilmente a 700 crediti ne ho rivenduto uno a 1300 e l'altro pure. Comunque è un ottimo guadagno, dai comprato a 700 e rivenduto a 1300 è ottimo. Stesso discorso per Tiago Motta, se compra a 700 ho rivenduto pure lui a 1300 crediti. Sto tornato anche sul metodo Florenzi ragazzi perché ho notato che si acquistano abbastanza agevolmente a 900 crediti se rivendono a 1500 crediti. Quindi questo è un altro metodo che ancora funziona e alla grande. Dopodiché sono andato su ESE, perché comunque è un ottimo giocatore di Real Madrid, 87-84 velocità dribbling, l'ho comprato a 900, l'ho rivenduto velocemente a 1700 crediti. Questo è un ottimo giocatore ragazzi, se lo trovate a pochi crediti compratelo perché ce potete, fa veramente tanta compravendita. Detto questo, ho trovato anche tanti altri giocatori, guardate gli adurizzi che c'ho, ma questi purtroppo sono tutti vecchi. Ieri sono riuscito a prenderne veramente pochi. Pisellone Drogba ha 700 crediti, se rivende all'incirca a 1200-1500 crediti. Io ho sparato 1500, vediamo quello che succede. Sain, questo ce l'avevo nei pacchetti, ho provato a metterlo in vendita, ma comunque ho verificato. Se compra facilissimamente a 700 crediti, tra i 1100 e i 1300 si dovrebbe rivende. Voi direte, perché l'hai messa a 1200-1400? Perché ce provo ragazzi, non si sa mai, qualcuno se lo accatta. Pisellino Giovinco, un altro giocatore che se compra a 700 crediti col compraora, questo si rivende molto velocemente tra i 1300 e i 1500. Lo so perché ne ho venduti già 3 o 4. Altro giocatore che c'avevo nei pacchetti, che ho trovato nei pacchetti, è Monreal. Non è niente de che, però comunque è un ottimo terzino ragazzi, abbastanza equilibrato, che se voi riuscite a trovarlo a 700 crediti, si rivende agevolmente tra i 1200 e i 1400. Io naturalmente per fare l'infame l'ho messo a 1300-1500. Stesso discorso per Kin ragazzi, sempre giocatore della MLS. Questo si compra a 700 crediti, si rivende molto facilmente tra i 1200 e i 1400, pure questo 1300 e i 1500 l'ho messo io perché sicuramente lo piazzo. Quindi poi ho acquistato qualche altro Florenzi perché comunque ragazzi, ce se può, fa veramente un ottimo guadagno. Se rivendono tra i 1400 e i 1500, però questo a 900 adesso si trova, io a 800 non so più riuscito a trovarlo. C'ho ancora un Bertolacci ragazzi, non so più riuscito a venderlo questo. Quindi il metodo Bertolacci per il momento accantonatelo. Non so per quale motivo, se compravano a 700, se rivendevano tra i 1200 e i 1400, questo sarà 15 giorni che sta qua, non so più riuscito a piazzarlo. Quindi per il momento il metodo Bertolacci è annullato, poi se ce stanno novità naturalmente ve farò sapere perché, o sapete insomma, il mercato cambia velocemente. È capace che oggi Bertolacci non si vende, domani si vende come il pane. Ultimo consiglio, Arbeloa. Arbeloa è un ottimo giocatore, se compra a 750-800 crediti, si rivende tra i 1200 e i 1400. In realtà ne ho visto qualcuno finì a 1500-1600, però nell'asta, non nel compra ora, siccome la compravendita si fa principalmente col compra ora, diciamo che tra i 1200 e i 1400 questo si dovrebbe piazzare senza problemi. Detto questo, visto che io comunque adesso sono tornato a 6000 crediti, voglio risalire il prima possibile almeno a 30-40.000 crediti, così mi farò un bel draft e perché no un nuovo spacchettamento. Mi raccomando, seguite i miei consigli, se volete fare la stessa cosa pure voi. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima. Sicuramente ci faremo una bella Road to Division 1 perché è arrivato il momento. Ben saluto, regà. Bella a tutti. Ciao.